Cari amici, la bomba è arrivata, sabato 7 novembre 2020, non parliamo delle elezioni americane, ci vorranno 20 giorni per saperne di più, ma la vera bomba è questa, indagati Renzi e Giglio Magico, avviso di garanzia anche per la Boschi, il nodo dei finanziamenti incassati e distribuiti dalla Fondazione Open si stringe attorno alla cerchia dell'ex premier, per tutti l'accusa è finanziamento illecito, ci siamo capiti, è tutto chiaro e poi si va all'interno, un bel servizio di Giacomo Amadori che prosegue a pagina 9, apriamo il giornale e andiamolo a prendere, ecco qua pagina 9, Renzi nei guai, Renziani nei guai, anzi indagato il Giglio Magico per i soldi della Fondazione che gestiva la Leopolda, pioggia di avvisi di garanzia per i flussi di denaro di Open, Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti oltre agli amministratori Carrai e Bianchi. L'ente raccolse 7,2 milioni ed ecco qua i protagonisti, ripeto Matteo Renzi, Luca Lotti, Marco Carrai, Maria Elena Boschi, davvero bella gente, davvero bella gente e un ruolo centrale in tutto questo, da anni faceva video in rete e parlava delle fondazioni dei Renzi come delle lavatrici per lavare i soldi sporchi, un ruolo centrale anche questa volta come già nell'arresto e nella condanna dei genitori Tiziano Renzi e Laura Bogoli ce l'ha avuto sicuramente Alessandro Majorano, il mitico difensore civico di Firenze di cui ho l'onore di essere amico, qui raffigurato con l'emerito professore Carlo Taormina, suo legale da ormai più di sette anni e vi ricordo anche il libro, il mio libro, l'usciere maledetto di Palazzo Vecchio, Alessandro Majorano a cura di Giorgio Riccardini, presto ne parlerà anche Sky, è veramente una bella giornata per chi ama la legalità e l'onestà, un risultato parziale ma comunque molto 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 significativo, molto 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 importante che dobbiamo assolutamente alla costanza e alla capacità di Alessandro Majorano e dell'emerito illustre professore Carlo Taormina, suo difensore. Un saluto e a presto!